Remax per me è tutto quello che avrei voluto tanti anni fa quando ho cominciato a fare questo lavoro. Per me Remax è il futuro dell'immobiliare. Per me Remax è un sistema vincente. Per me Remax è un navigatore, basta accenderlo e seguire la strada giusta. Remax per me è il sistema più facile per realizzare un sogno. Remax per me è un'opportunità continua di crescita. Remax per me è la mongolfiera che ti può portare verso l'alto. Remax per me è un brevetto per la crescita. Remax per me è un'opportunità.